Buongiorno weekend, benvenuti all'appuntamento del fine settimana targato Cusano Italia TV. E viva è domenica e quindi inizia ovviamente la seconda puntata di Buongiorno weekend, ovviamente in diretta ogni sabato e ogni domenica dalle 9 alle 11 in vostra compagnia. Come? Scrivendo, interagendo con noi con la puntata e con gli ospiti di questa puntata scrivendo al 342 627 5717. Ormai conoscete a memoria questo numero di telefono e fate sempre il vostro messaggino. Ringrazio subito Gigi da Genova che ci ha salutato e ci ha augurato buona domenica e ovviamente tutti voi che seguite Buongiorno weekend. Iniziamo subito la puntata spiegandovi che cosa accadrà oggi nella puntata perché avremo l'onore di riavere ospite Buongiorno weekend il professor Francesco Schittulli, presidente della Lilt nazionale. Con lui parleremo della settimana della prevenzione oncologica. È sempre importante ribadirlo quanto sia importante la prevenzione e i controlli, quindi con lui parleremo e approfondiremo questo tema fondamentale. Seconda parte di Buongiorno weekend dedicata al cibo e alla Pasqua con Susanna Cutini e Alex Revelli Sorini. Buongiorno weekend gastrosofi amici di Buongiorno weekend. Con loro parleremo della Pasqua in tavola, le tradizioni antiche ma anche quelle che parlano del presente e forse del futuro. Dopodiché arriva lei Paola Aspri la nostra amica di Buongiorno weekend con i suoi up and down della settimana e ovviamente il podio dello Zotiaco con i tre segni più importanti e più fortunati della settimana. Concludiamo in bellezza e con la cultura dei book writer. Agnello Di Maio e Federica Andreozzi tornano a Buongiorno weekend per raccontarci e spiegarci come solo loro sanno fare degli altri meravigliosi libri. Questa volta il tema sarà radici. Io già non vedo l'ora di sentire che cosa avranno da dire. Tutto questo e molto di più. Ringrazio Lorenzo Fantini alla regia, Beatrice Mazzoni in assistenza. Sempre pronti e carichi per Buongiorno weekend. Iniziamo subito dando il benvenuto al professor Francesco Schittulli. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a voi e buona settimana. Buon fine settimana, buona settimana che poi arriverà professore. Buona settimana futura. Esatto, perché è una settimana molto importante per la Lilt e soprattutto per tutti noi. Intanto professore, lei già è venuto qui ospite a Buongiorno weekend, però ribadiamo per i telespettatori che non avessero seguito le precedenti puntate o che non conoscessero effettivamente la Lilt. Che cos'è e qual è il suo obiettivo? La Lilt è un ente pubblico su base associativa, conta 106 associazioni provinciali, tante e quattro sono le nostre province, con 20 coordinamenti e 397 ambulatori. La Lilt è un ente che dedica la sua attività essenzialmente alla prevenzione. Nella prevenzione sia primaria, secondaria che terziaria, quella primaria che è legata al corretto stile di vita e che ognuno di noi dovrebbe adottare per allontanare la possibilità di sviluppare un cancro. Penso per esempio alla lotta al tabagismo, alla corretta alimentazione e alla regolare attività fisica. Sono dei principi sani che se noi li mettessimo in atto personalmente, singolarmente, riusciremmo ad abbattere già il 40% di tutti i cancri. Una malattia è il cancro che è certamente destabilizzante, devastante, non soltanto sotto l'aspetto fisico, quanto sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto occupazionale. Bene, è una malattia però che diventa sempre più, giorno in giorno, sempre più guaribile. Di cui quindi la necessità davvero di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita. Questo è il principio essenziale di questo ente, di questo ente che abbraccia 106 associazioni provinciali e che è presente su tutto il territorio nazionale. Dobbiamo anche attenzionare l'importanza della prevenzione secondaria, cioè della diagnosi precoce. Perché la diagnosi precoce di un cancro, scoprire un cancro in fase iniziale, significa poter garantire non la curabilità, ma la guaribilità. Un tumore scoperto in fase iniziale ha un grado di aggressività, un indice di malignità molto basso. E il processo di metastatizzazione, cioè che possa diffondersi in altri organi o apparati, è pressoché nullo. Quindi è una malattia davvero vincibile, curabile, senza però trascurare anche la terza prevenzione, il terzo tipo di prevenzione, e cioè la prevenzione terziaria. Il prendersi cura di chi ha già vissuto l'esperienza cancro, e non soltanto singolarmente, ma anche nell'ambito del contesto sociale e del contesto proprio, familiare. Sono 4 milioni di italiani che hanno avuto, hanno vissuto l'esperienza cancro. Di questi noi dobbiamo prenderci cura. Questo è l'impegno generale della Lilt, senza trascurare poi anche un impegno scientifico, perché la Lilt contribuisce sia all'elargizione di borse di studio, soprattutto per giovani medici, ricercatori, per gli psicologi ad indirizzo oncologico, e poi anche partecipiamo, diamo fondi, risorse finanziarie per i progetti di ricerca che vengono eseguiti nel nostro Paese. Tutto questo finalizzato a vincere definitivamente una malattia che oggi è guaribile nel 67% dei casi, ma la quale oggi stesso noi potremmo già raggiungere la vetta dell'85% se mettessimo in atto soltanto le nostre tecnologie, se potessimo sfruttare meglio questa diagnostica innovativa di cui oggi stesso disponiamo, e le terapie, i nuovi farmaci, i farmaci personalizzati, targettizzati. Professore, nelle sue parole è l'obiettivo della Lilt. In questa settimana, questa particolare che sta per iniziare, è proprio la settimana della prevenzione oncologica, e la campagna diventa influencer di te stesso, perché in effetti pensiamo tanto agli altri a essere promotori di qualcosa altrui, un oggetto, un vestito, qualcos'altro, ma in realtà noi stessi ogni tanto scordiamo di mettere in primo piano la nostra persona e la nostra salute. Chiederei alla regia di mandare il primo contributo, perché in effetti la campagna visiva di questa settimana è particolarmente efficace. Quindi vediamola insieme. Non è che devi andare in palestra tutti i giorni? Basta davvero poco. Da oggi facciamo le scale. Vai. Ecco, piccoli accorgimenti che però possono fare la differenza. Prendere le scale effettivamente è già un primo passo verso questa salute. Certo, la regolare attività fisica è uno degli elementi essenziali che dovrebbe già iniziare il suo percorso sin dall'età giovanile, sin dai ragazzi, sin dai bambini, per poi portarlo come abitudine di vita durante il corso della propria attività di vita quotidiana. Non soltanto questo, ma anche la corretta alimentazione, perché sappiamo che la errata alimentazione è responsabile del 35% di tutti i tipi di cancro, di cui quindi la necessità di una dieta mediterranea italiana, quindi di poter avvalersi di quelle proprietà salutari che hanno i nostri cibi, purché siano appunto tracciabili e siano davvero i nostri alimenti. Tutto questo, insieme anche allo smettere di fumare, contribuisce ad allontanare oltre il 40% di tutti i tipi di cancro. Ecco l'importanza di attenzionare questa tematica. Guardi, noi durante il periodo del Covid tutti i media si sono dedicati 24 ore sul 24 a propagandare la necessità di intervenire e di come intervenire contro il Covid. Beh, io mi chiedo perché la stessa attenzione non venga rivolta alla lotta ai tumori, sapendo che è una malattia, ripeto, guaribile. Eppure oggi, come ieri e come domani, oggi è già una giornata festiva, ma come ieri, prefestiva e domani, giornata quotidiana normale della settimana, 1.070 italiani scopriranno di avere un cancro. Ieri, oggi, domani e così per tutto l'anno, saranno 496 al giorno i decessi per cancro, di cancro. Stiamo parlando di una malattia davvero vincibile, guaribile, di cui quindi la necessità di attenzionarla maggiormente, ma non per creare panico, spaventare la gente, ma per educarla a un comportamento più sano e nello stesso tempo stimolare le istituzioni ad attivarsi affinché questa malattia possa essere dibellata e la singola persona, il singolo cittadino, chiedere, pretendere che vengono effettuati determinati esami per scongiurare lo sviluppo di questa patologia. Tutto questo è fattibile e su questo ci dobbiamo impegnare. Ecco perché io vi ringrazio per l'attenzione che voi mostrate nei confronti della LILDE. Sarà una settimana nazionale della prevenzione oncologica che inizia il 16, iniziata già, inizia ufficialmente domani sino al 24, in coincidenza con l'avvento della primavera per quanto riguarda la LILDE. E noi attraverso l'Opusco, attraverso il nostro sito, attraverso le nostre piazze, vogliamo davvero diffondere la cultura della prevenzione e come poter prevenire questa patologia, partendo da quegli elementi essenziali della corretta alimentazione che già allontanano di per sé lo spettro cancro. Il nostro simbolo è rappresentato dall'olio extravergine di oliva italiano. Sappiamo essere un alimento nutraceutico, non ha soltanto delle proprietà nutrizionali, ma anche farmacologiche. Di qui quindi l'invito a che queste campagne non durino soltanto sette giorni, dieci giorni, ma per tutto l'anno. A partire però dalla scuola. La scuola è fondamentale per quanto riguarda la vita serena, la vita in salute di una persona. Educazione quindi sanitaria anche nelle scuole. Stiamo parlando tanto di educazione alla sessualità, alle emozioni, all'emotività. Insomma, è importante stravolgere forse il sistema scuola approfondendo certe tematiche che sono quanto più realistiche e pratiche e che sviluppano effettivamente la persona. Quindi bisognerebbe lavorare anche in questo. È proprio così. Cioè noi dobbiamo cercare davvero di creare una sorta di alleanza trasversale e di accompagnare questo percorso di vita che si allunga perché noi siamo uno dei paesi più longevi al mondo. Questa longevità non deve essere afflitta dall'insorgenza o dallo sviluppo di determinate patologie. Già gli ultra 65 anni italiani sono portatori di due patologie croniche. Già gli ultra 65 anni consumano cinque farmaci al giorno. Beh, di fronte di una malattia come il cancro, nei confronti della quale siamo davvero vincenti, è possibile continuare in questo percorso. L'importanza dello screening, degli screening, addirittura siamo stati invitati dalle raccomandazioni europee di allargare lo screening non soltanto nei confronti dei tumori del seno, del collo dell'utero e del colon retto, ma anche della prostata e del polmone. E l'Europa dice dello stomaco. Io insisto invece sulla vescica perché i casi in Italia sono molto superiori rispetto a quelli dello stomaco per quanto riguarda questa patologia. L'importanza dello screening è fondamentale. Se noi pensiamo al cancro al seno, voi considerate che 160 donne ogni giorno in Italia hanno la diagnosi di cancro al seno, scoprono di avere un tumore al seno. Di qui l'importanza dello screening. E nei confronti di questa patologia, già registriamo un buon successo in termini di guaribilità, perché la guarigione si è attestata intorno all'80-85%, ma potremmo arrivare al 98% perché non lo facciamo. Ecco il sistema educativo a partire dalle scuole, per quanto riguarda anche il seno, senza contare poi la vaccinazione HPV per quanto riguarda i giovani, e poi accompagnare il percorso della vita della donna con esami appropriati, l'ecografia, la mammografia, lì dove occorre anche la risonanza magnetica mammaria, sono tutti degli strumenti diagnostici e una tecnologia così sofisticata, così attiva, puntuale, che ci consente di scoprire un tumore in fase iniziale, cioè quando è di pochi millimetri. E io non devo più deturpare questo organo, che è il simbolo, e resta il simbolo della femminilità. È un organo privilegiato da parte del genere umano. Ecco l'importanza di frequentare ambulatori, e la LIT fa questo, è disponibile a questo, ma soprattutto di garantire alla donna la possibilità di eseguire questi esami almeno a partire dai 40 anni annualmente vita natural durante. Le istituzioni, soprattutto le regioni che sono responsabili, perché hanno la delega alla sanità, quindi alla cura della persona, le regioni devono investire in salute e non in malattia. Investire in salute significa investire in prevenzione, significa investire in poliambulatori per la diagnosi precoce, investire in malattia significa investire in ospedali. L'ospedale è il luogo di cura di chi è già malato. Io oggi posso non ammalarmi, io ho l'obbligo di non ammalarmi, io, regione, e quindi di investire in attività che possono consentire ai miei cittadini di non sviluppare patologie. Professore, a proposito di tutto quello che sta dicendo, chiederei alla regia di mandare il secondo video, perché uno dei problemi, e poi concludiamo, effettivamente è il tempo, che sembra non esserci in questa vita frenetica. Vediamo un attimo un secondo video. Lo so che vai sempre di fretta, ma fermati un attimo, è importante. La facciamo questa mammografia? Promesso! Ecco, è molto semplice in realtà, però tanto efficace questa campagna, perché effettivamente colpisce proprio dove abbiamo questo difetto, il tempo, pensiamo di non averlo mai. In realtà dobbiamo ascoltare il nostro corpo, dobbiamo salvaguardarlo e proteggerlo, e quindi dedicare del tempo per fare prevenzione è fondamentale. Non troviamo scuse di tempo, di soldi, insomma le modalità per fare prevenzione ci sono, e quindi dobbiamo assolutamente prendere cura del nostro corpo. Io inviterei anche tutti i telespettatori ad andare sul sito prevenireconlalilt.it, perché trovate questo puscolo interessantissimo, dove vi spiega tutto, come poter fare, tanti preziosi consigli, soprattutto veri, perché è un altro argomento che potremo trattare, ma non abbiamo purtroppo il tempo, sono le fake news, no? Rispetto a queste tematiche, andare in giro su internet è veramente il caos di argomenti e di false indicazioni, quindi io invito sempre a contattare persone che hanno studiato effettivamente, a controllare i siti, la provenienza di questi siti, e l'attendibilità. Quindi prevenireconlalilt.it è veramente un ottimo spunto di riflessione. Professore, io la ringrazio immensamente per il suo tempo, le auguro quindi una buona settimana della prevenzione, speriamo insomma di poter aiutare e contribuire anche noi nel nostro piccolo a instillare questo consiglio, fare prevenzione sempre e comunque. Grazie professor Francesco Schittulli. Grazie, grazie a voi. Grazie e adesso giusto qualche minuto di pubblicità, intanto vi ringrazio anche per i messaggi che ci hanno scritto, buongiorno anche da Monte Silvano, buona domenica da Pescara anche, quindi io vi ringrazio, giusto qualche minuto di pubblicità e poi torna, buongiorno weekend. Grazie a tutti.